buongiorno a tutti oggi siamo qui nell'orto per vedere un po la situazione delle solanacce qui abbiamo le solanacce e poi vedremo tutte tutte le altre parti dell'orto allora questi sono peperoni il seme è stato acquistato subito a sementi adesso non mi ricordo che si sia il quadrato d'asti o una cosa del genere sono stati seminati se non erro attorno all'inizio di febbraio sono stati messi nel germinatoio germinatoio trovate trovate una playlist sul canale per come costruirlo eccetera e poi sono state messe a dimora all'inizio di maggio se non nero vedete queste sono tutte piantine autoprodotte sono stati messi dei tutori dei tutori di ferro dei tondini vedete e questo è tutto con tutti peperoni abbiamo già mangiato qualcuno vedete sono un po piccolini ma i più grossi li abbiamo già raccolti queste sono melanzane melanzane abbiamo due tipologie quelle allungate e quelle più più piccole schiacciate viola con io qua non le ho divise la semenza è sempre della vita semente che questo vedete sempre seminati con peperoni all'inizio febbraio e poi sono state sono stati messi nella germinazione poi sono stati ripicchettati nei vasetti e all'inizio di maggio sono stati messi qua sempre con i tutori con i tutori in tondino di ferro vedete stamattina li ho legati e ho tolto l'erba perché qui c'è veramente c'era veramente tanta tante erbacce tanti infestanti la terra l'ho passata con l'alato rotativo io il motocoltivatore con l'alato rotativo e poi sono passato sempre con la zappatrice prima ho fatto una passata con l'alato rotativo e poi ho fatto un'altra passata con con la fresa diciamo la la zappatrice la fresa noi la chiamiamo qui vedete qui sono proprio di fianco a casa eccetera gli archi li avevo messi anni fa ma non li ho mai usati ok e poi dopo qui abbiamo i pomodori allora i pomodori ne ho diverse tipologie allora questi media mi ha donato il seme filippo quando è venuto a marzo e gli ho seminati in germinatoio poi li ho ripicchettati e questo questi sono i pomodori sono belli questi vedete che fusto il bel fusto grande che hanno stanno crescendo bene io tengo sempre tolte le femminelle legati eccetera vedete guardate questo che bomba come bello alto pomodori non ce ne vedono poi questi invece sono semi che mi ha donato teresio sono semi che hanno diversi anni e derivano da una mostra del pomodoro che è stata fatta in unigiana anni fa e che viene tuttora fatta solamente che le varietà erano tutte divise singolarmente io l'ho seminata e l'ho tenuta divise sono nate pochissime perché erano più di 300 varietà ne sono nate pochissime quelle poche che sono nate poi le ho moltiplicate per via vegetativa con le femminelle e poi le macchie sono tutte uguali anche se sulle bustine i semi i semi erano cioè le varietà erano tutte divise io ho visto le piantine fanno tutti gli stessi pomodorini sono questi qua le foglie sono identiche vedete erano tutte diverse le varietà io ho tenute diverse divise eccetera erano tutti gli stessi pomodorini non so neanche se siano commestibili infatti non li sto mangiando cioè stanno venendo infatti chiedo se qualcuno di voi le conosce se mi può aiutare vedete queste sono le foglie fanno dei fiori tipo da patata sono tipo dei patatari non so se si riesce a vedere vegetano molto in basso si allargano infatti le tenute potate ma stanno legando questi pomodorini qua boh e ne ho tante perché ne avevo ne hanno nate nel suo mercato sette otto varietà e poi le ho moltiplicate tutte ho fatto tutte le via vegetativa ho preso le prime femminili che sono che sono venute le ho tipo questa le ho messe in un appena d'acqua sempre nel germinatorio poi hanno fatto le radici e dopo le ho le ho messe nei vasetti adesso vi faccio vedere dall'altra parte cosa ne ho perché questi sono la prima parte di pomodori che ho messo dopo adesso vi faccio vedere l'altra questi invece sono semi che ho mandato uno scambio semi a borgotaro quest'anno borgo val di taro qui vicino a palma c'è stato un bellissimo scambio semi e una ragazza mi ha donato due varietà che coltiva da anni e sono queste due sono queste sono quelle piantine qua vedete sono belle cioè nel senso sono belle le piante sono belle i pomodori chiaramente non li ho ancora assaggiati vediamo cosa viene però sono vedete come sono si vedono qua e questo è la prima parte dei pomodori melanzane peperoni 2 4 6 12 14 16 una ventina ci sono 20 pomodori 20 melanzane e 20 peperoni poi c'abbiamo le more tutto adesso andiamo a vedere il filare lungo allora questa è la seconda parte il filare secondo filare diciamo quelli sono qui sono lì dove eravamo prima di fronte c'è la vigna in un filare ho messo i pomodori allora queste sono tutte varietà che mi ha portato il mio amico andrea della valtellina quando è venuto e c'è gargamel che dovrebbe essere questo adesso comunque dopo li vediamo poi c'è dei pomodori che li ha donato diego che saluto ciao diego e dovrebbero essere dei datterini tipo poi c'è dell'is d'or che questo sono belli dovrebbero venire gialli vedete e poi c'è questo dovrebbe essere gargamel vediamo vediamo un po se lui gargamel questo vedete c'è una lettera leghette bellissime di andrea questo è gargamel e dovrebbe il primo dovrebbe essere gargamel quello la questo qua dovrebbe essere un altro gargamel e poi dopo questi qua sono sempre le varietà lì mischiate c'è quindi c'è il datterino di diego dell'is d'or e gargamel ma qua di gargamel non ne vedo avete dalle foglie qua ci sono delle melanzane e questi qua sono altri patatari uguali uguali a quelli la vedete sono tutti stati moltiplicati in via vegetativa sono tutti uguali alla fine hanno tutti quei fruttini piccolini non ce n'è uno diverso dal lato ce n'è uno che ha le foglie leggermente diverse se non è però niente sono tutti uguali vedete quanti ce n'è sono qua ci sono altri pomodori di filippo adesso non mi ricordo sono di filippo di borgotaro questi però comunque c'è tutta la piantina con tutte le varietà che sono state messe vedete qua ci sono altre melanzane peperoni vedete questi sono peperoni di cena su uno di questi qua vedete anche qua un altro e poi vedete peperoni melanzane sono sempre le stesse altri pomodori non mi guardo sempre sono di filippo di borgotaro queste vedete questa è l'insalata che mi ha portato filippo semi di di suono che coltivava anni e anni fa mi ha portati all'inizio di marzo vedete questi si riconosce che a queste queste macchioline tutta vedete e poi li abbiamo messi in germinatoio poi abbiamo ripicchettati con la veronica e poi quando è venuto andrea li abbiamo messi io lui a bomba col trapiantatore pneumatico qua dieci minuti ci ha messi qua abbiamo fatto tutta la fine fino in cima e poi in mezzo sta nascendo della cima di rapa perché qui l'anno scorso settembre ho messo la cima di rapa trovate il video di quando pulito il seme sul canale adesso sta nascendo perché un po di seme caduto vedete ce n'è già lì un po che va in semenza e queste sono le suonanacce vi saluto ciao 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 a tutti ciao ciao ciao